Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Vediamo che in questo video c'è una scatoletta di plastica che è costata 2 euro da Tiger. Eccola qui. Inizialmente costava 1 euro, adesso il prezzo è salito di un altro euro, quindi 2 euro. E questa scatoletta contiene la mia collezione di matite, ma oggi non andremo a vedere tutta la collezione di matite, ma le matite jumbo, cioè quelle che hanno la mina e anche il fusto in legno più grandi, più consistenti rispetto ad una matita tradizionale, classica. Allora, qui dietro avevamo questa incolorazione nera con gommino all'estremità, eccolo qua, molto comodo, più lunga della scatolina, quindi non ci stava dentro, della Legami Milano in gradazione HB. Tutta nera, compreso anche il legno. È già stata temperata una volta, la sezione è completamente circolare, molto comoda da tenere in mano e ha, diciamo, un'intensità di scurezza della mina, quindi della graffite, diciamo intermedia. Ma questo andremo a vederlo dopo nelle prove di scrittura. Poi la seconda, sempre matita jumbo, un po' forse più contenuta nelle dimensioni rispetto alla Legami, con, abbiamo visto qui, questa sezione smussata ma triangolare, comoda anche questa da tenere in mano. Io adesso la sto prendendo in mano con la sinistra, ma è una matita, HB anche questa, per Destrimani. C'è poi la versione per Mancini. Stabilo Easy Graph è il nome di questa matita. Infatti, queste scanalature che vedete non sono prettamente decorative, ma servono, anche per i più piccoli, per impugnare bene la matita. Ovviamente queste sono fatte per Destrimani, io adesso sto impugnando la matita con la mano sinistra, quindi non sono proprio precise, precise sulle impronte, diciamo, della mano. L'ergonomia non è massima, sicuramente su uno mancino e usa la matita da Mancini si troverà a proprio agio. Chi è Destrimani e utilizza la matita con la mano destra, sicuramente queste scanalature calzano perfettamente. Quindi, stabilo Easy Graph per Destrimani HB. In questa colorazione verde scuro, con la puntina finale all'estremità rossa. Ce ne sono comunque anche di vari colori, mi sembra di averle viste grigio scuro, azzurre, forse anche gialle, se non vado errando. Andiamo avanti e vediamo la Stedler Norris Jumbo HB, con colorazione classica gialla e nera. Anche questa ha una sezione triangolare. A differenza della classica Norris a sezione esagonale e il fusto è anche più stretto, quindi una matita tradizionale, non ha la parte finale che va ad indicare... Vediamo se riusciamo, ecco, vedete che qui vediamo praticamente la mina e anche il legno, mentre su questa che adesso vediamo, per fare un confronto se riesco a tirarla fuori, vedete che questa qui che è una 2B ha la parte finale, l'estremità del colore arancione che sta ad indicare appunto la gradazione di quella matita. Questa invece è lasciata al naturale, con legno sezionato, tagliato e con la mina che si vede. Comunque anche questa, triangolare, non ha le scanalature come la stabilo, però si tiene bene, molto bene in mano, è anche facile da temperare, tenendo presente che per temperare bisogna utilizzare il temperino di quei modelli col doppio temperamatite, quindi c'è il temperamatite con il foro piccolo per le matite tradizionali come questa che è per esempio una coin or, quindi di questa misura qui, e poi c'è il foro più grosso, più grande e più ampio per queste matite jumbo che vi sto illustrando in questo video. Poi andiamo avanti e l'ultimo acquisto ricade su questa pelica che ho comprato al Conad City di Padova, nei pressi proprio appiccicato al centro Giotto, in via Venezia 61, mentre questa è stata comprata in centro a Padova nel negozio Legami, queste due, Stedler e Stabilo, sono state acquistate invece questo al Burovale di Padova, dietro il Media World, sempre in zona via Venezia, anzi via della Croce Rossa per essere precisi, e questa invece l'ho comprata in centro nella cartoleria Prosdocimi di Padova. Allora, eravamo arrivati a parlare di questa pelica, che è in colorazione grigia e blu, con queste simpatiche faccine sorridenti, la scritta pelica e poi con un pennarello indelebile, visto che la base per scrivere è lucida e con una penna normale non si potrebbe scrivere, cioè l'inchiostro non farebbe presa, vi consiglio di scrivere con un pennarello di quelli a punta fine indelebili, quelli che servono magari per scrivere, che si utilizzavano una volta per scrivere sui cd. Questa è in gradazione B. FSC vuol dire che sono state utilizzati dei legni che sono praticamente controllati, il taglio è controllato poiché poi vengono ripiantati degli alberi in modo che ci sia un riciclo e quindi non una deforestazione esagerata, ma un taglio del legno controllato e quindi anche un ripiantare nuovi alberi, quindi una cosa ecologica per essere più precisi. Anche questa lasciata nudo sulla parte dell'estremità si vede che ha una bella mina grossa e ha questa forma, anche questa, triangolare. Triangolare magari un po' meno esagerato, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco più da vicino, eccolo qua. Vedete che comunque è un triangolare un po' più arrotondato, scusate per la vibrazione della mano perché fare tutto con una mano non è semplice, dovrei comprare un cavalletto. Vediamo la mina da vicino e vedete che è stata temperata anche in maniera triangolare, vedete che anche la punta è proprio, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco, vedete che la punta è stata un po' mozzata in sezione triangolare, scusate per la messa a fuoco. Ecco, questa è stata comprata, dicevo, al Conat City di Padova ed era in doppio, in una confezione con due pezzi, con due matite ed è costata un euro e 99. Infatti tutte queste matite jumbo, questa è costata un euro e 95, questa è costata più o meno due euro, tutte più o meno sono costate due euro, tranne questa che verrebbe ad un pezzo se venisse venduta singolarmente costerebbe un euro perché di due pezzi ne ho spesi, ho speso due euro. Bene, detto questo e avendovi illustrato un po' le caratteristiche tecniche ma soprattutto estetiche di queste matite jumbo, andiamo a vedere le prove di scrittura. Eccole qua, già pronte, vediamo la Legami e la Stabilo, Easy Graph, entrambe HB più o meno si eguagliano come, diciamo, come grigio, come resa del grigio sul foglio, mentre la Stedler Norris Jumbo HB a parità di gradazione della mina, della graffite risulta un po' più morbida e un po' più scura e quindi porta a consumarsi della mina più velocemente rispetto alle prime due. Poi abbiamo la Pelican in gradazione B, come vi dicevo prima, che qui, essendo la matita temperata con la punta, anche con la punta proprio in graffite triangolare, è venuto fuori questa scritta un po' da calligrafia. Bene, quindi potete vedere un po' le differenze. Abbiamo fatto poi degli scarabocchi e delle prove di cancellazione fatte con una classica Stedler Mars Plastic, in questa non è classica perché quella classica avrebbe il cartoncino che la protegge colore blu e non avrebbe questa fascetta arancione. Questa è la Mars Plastic Color, però le caratteristiche della gomma sono praticamente identiche alla Mars Plastic tradizionale. Vediamo le prove di cancellazione. Qui abbiamo fatto tre passaggi per ogni scarabocchio e potete vedere che ci sono ancora i truccioli. Adesso andiamo a vedere come si è comportata. La gomma è uguale per tutti e quattro gli esempi. Vediamo come si sono cancellati. Vediamo che la Legami forse è quella che insieme anche alla Stabilo si sono cancellate molto bene. Io poi qui ho calcato forse un po' troppo sulla carta quindi è rimasto il segno della mina che ha inciso sul foglio. Vediamo che la Stedler invece è un po' più ostica da cancellare. Infatti rimane un po' traccia della grafite sotto la parte cancellata e si porta dietro anche un po' di, come si può dire, una scia di grafite sulla parte cancellata. Per la Pelican, diciamo che la Pelican, anche se è una B, non è una B scurissima, anzi potrebbe essere considerata quasi un HB. vediamo che la parte con cui è stato fatto lo scarabocchio era la parte più pungente, infatti ha segnato un po' il foglio, è stato cancellato, la grafite è quasi andata via dal tutto, ma sono rimasti i segni che la punta ha lasciato sul foglio. Bene, quindi comunque tutte e quattro, vediamo se ritorniamo ad essere con la visione a fuoco, tutte e quattro queste matite sono matite di qualità, di qualità sia di legno ma anche di grafite, quindi delle buone matite. Forse la più conveniente è la Pelican, perché c'era questo blister che conteneva due matite a 1,99 euro, le altre invece costano un pochino di più e siamo intorno ai 2 euro. Bene, togliamo via i truccioli della gomma, la prova di scrittura è terminata e anche questa recensione. Mettiamo in posizione le matite che abbiamo visto in questo video, la Legami, la Stabilo, la Stedler e la Pelican. Eccole qua. Perfetto. Io concludo il video invitandovi a cliccare sul pulsante per iscrivervi e anche cliccare sulla campanellina per avere appunto notifica ogni volta che viene caricato un mio nuovo video. Vi invito a lasciare un commento in merito a questo video se avete delle domande al riguardo e vi invito anche a condividere questo video sui vostri social se anche voi siete appassionati di cancelleria come me. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!